Siamo in Petroncini, stiamo con Roberto e proviamo il nuovo modello di Petroncini Roste Machine. Qual è il nome? Pt8KG, con il sistema di controllo profilo. Ok, potete spiegare per noi le principali caratteristiche di questo roste? Ovviamente, grazie per l'opportunità. La principale caratteristica di questa macchina è che roste con indirettamente hot air. Soprattutto questo modello, questa versione ha il sistema di controllo automatico. Quindi, per andare in pratica, prima di tutto, la macchina deve andare in pre-eating setup. Quindi, possiamo iniziare il pannello, iniziare il drum, iniziare il fan e in pre-eating. Quando la macchina è già riuscita, la temperatura di pre-eating potrebbe essere circa 160-170 gradi, possiamo aggiungere il coffee green into the drum. Quindi, possiamo aggiungere il ciclo di iniziare. Quindi, la macchina comincia a andare in automatico. E il pannello comincia a lavorare, in modo da raggiungere la temperatura di pre-eating, per cui vogliamo discharcare il coffee green. Quindi, la temperatura di pre-eating potrebbe essere circa 160-170 gradi. Il coffee robuste potrebbe essere un po' più di più. Ma, per aspettare per raggiungere la temperatura di pre-eating, possiamo discharcare il coffee green. Quindi, questo TC è la temperatura reale che il coffee, che è dentro del drum, quindi 149-150 gradi, abbiamo deciso di discharcare 160 gradi, magari 1-2 minuti per arrivare la pre-eating temperatura. Il coffee green, il bacio giusto, va all'interno del drum. Abbiamo tre temperature di controllo in questa macchina. Prima di tutto, la temperatura di coffee dentro del drum, la reale temperatura di coffee dentro del drum, che fa l'inputo nel profilo di controllo. La temperatura dell'outlet smoke, per mantenere la temperatura di controllo dell'outlet. E, molto importante, per mantenere la temperatura di controllo dell'outlet, questo è l'appiegvere della confondazione di controllo dell'outlet, comunque il funzione prest производizza la temperatura di controllo dell'outlet pale. Quindi inch presentera al raddeco, per favore a prevare la temperatura di controllo dell'outlet, è installato alla controllo dell'outlet, l'outlet punto anal someday della controllo dell'outlet futuro. ok quindi il pinko è la temperatura reale che la coppia sta facendo ok e il blu? il blu è la temperatura del hair outlet ancora più, questo profilo di controllo ha anche altri parametri che sono possibili di controllo come diciamo, abbiamo il tc, il tc, la temperatura del caffè, durante il rostamento di roste il t2 è il controllo dell'inletto, il mt è il speedo di roste il trattamento di roste e il trattamento di roste il trattamento di roste e il trattamento di roste il trattamento di roste ok stiamo rostando, prendiamo la possibilità qui il caffè del caffè quindi il caffè è sviluppato è sviluppato quando la temperatura è roste il caffè di roste circa 150 gradi ora il caffè di roste inizia la fase di roste quindi la tipica di roste potete vedere come il caffè di roste il caffè di roste e il caffè di roste aumenta la volume di roste quindi il caffè di roste in questo caso dopo aver capito la temperatura di roste nel secondo roste il caffè di roste il caffè di roste in modo da dare più uniformità nel secondo il caffè di roste quando il caffè inizia la fase exotermica e il caffè di roste di roste di energia il caffè di roste il caffè di roste il caffè di roste il caffè di roste e inizia la fettura con una forte fan quindi in meno di 1 minuto il roste è finito e il caffè di roste al caffè di roste a una temperatura già calda questo profilo ha anche la possibilità di visualizzare il profilo ma non solo il profilo della temperatura ma il profilo di tutti i parametri che si può cambiare durante il processo di roste quindi potete vedere la linea di roste è il profilo del real Tc il profilo della linea di roste è la temperatura della temperatura di roste che si può cambiare quindi potete vedere che durante il processo il profilo di roste perché necessitiamo meno temperatura la linea di roste è la temperatura di roste di roste quindi abbiamo anche il controllo della temperatura di roste di roste di roste di roste perché durante il processo roste aumenta la temperatura e anche ancora abbiamo la visualizzazione della opi rosa line è la modulazione del roste come funziona di roste quindi potete vedere quando il pre-eating è in stand-by poi riduce aumenta in order per ottenere la temperatura pre-set poi abbiamo il sped che possiamo cambiare per ogni step il sped di roste e anche il controllo l'altro pink è la variabile del controllo possiamo dare per ogni step di roste come vediamo nel real pre-set profilo vediamo la speed di roste di roste avere alcuni percenti e ridurare il profilo anche per l'ac il controllo è possibile ridurare per avere più uniformità nella fase del exothermium roste di roste di roste di roste di roste di roste